due linee diverse fra i governatori nel pomeriggio la riunione delle regioni la zona arancione nazionale divide ancora prima di essere diventata realtà una posizione unitaria tra i presidenti delle regioni ancora non c'è e forse proprio per questo la discussione in programma per oggi si annuncia ampia e articolata sull'ipotesi e cioè l'introduzione di una zona arancione in tutto il paese per una fase transitoria di almeno un mese con il prossimo decreto allo studio del governo draghi i governatori convocati per le 17 dal presidente della conferenza delle regioni stefano bonaccini non sono tutti sulla stessa lunghezza d'onda specie il fronte leghista allertato dal segretario del partito matteo salvini che ha fatto arrivare il suo alto là via facebook basta con la paura preventiva ha scritto salvini invitando a spingere sull'acceleratore della vaccinazione da lombardia veneto e umbria potrebbe dunque arrivare un no alla zona arancione in tutta italia ipotesi che piacerebbe al ministro della salute roberto speranza ma che sulla base del ragionamento che si sta svolgendo al momento nella lega va valutata bene da un nuovo comitato tecnico scientifico sempre mettendo davanti la salute pubblica ma con un cambio di passo rispetto alle cure domiciliari ai monoclonali e ai vaccini che devono essere programmati e programmabili spiega una fonte di primissimo livello come dire non possiamo andare a braccio con una pandemia in casa e invece che sulle restrizioni certo utili ma solo dove effettivamente necessarie per fermare la corsa del virus facciamo leva sui vaccini poco favorevole alla zona arancione generalizzata più il presidente della regione liguria giovanni toti come salvini anche lui ha affidato la sua valutazione a facebook mettiamo limiti rigidi ma consentiamo ai nostri locali di aprire ai ragazzi di tornare a incontrarsi a chi fa sport di praticarlo semmai prendiamo misure anche drastiche ma circoscritte nelle aree dove il virus dovesse crescere di più come salvini anche toti ha ricordato che accelerare la campagna vaccinale è il primo obiettivo del nuovo governo che deve trovare più dosi da mandare alle regioni